Siamo con Edoardo, delegato di Piacenza. Buongiorno a tutti, mi chiamo Edoardo e sono appunto il delegato di Lifce Emilia per quanto riguarda Piacenza. Siamo qui in questa giornata molto molto importante per l'associazione perché c'è la partenza di questa campagna estiva che permetterà all'associazione, si spera, di avere delle risorse che ci permetteranno di andare a finanziare quelli che sono i due progetti principali che abbiamo in atto e sono il progetto della nutrizione che riveste per i pazienti FC un ruolo importantissimo in quanto permette durante il ricovero ospedaliero di potersi appunto nutrire in maniera migliore rispetto a quello che è il cibo di un ospedale e qui l'associazione si fa carico interamente di questi ticket che vengono erogati ai pazienti in ospedale e il secondo progetto molto molto importante è quello dell'assistenza a quelli che sono la cura sempre dei pazienti tramite degli studi clinici che verranno finanziati, questo progetto verrà finanziato interamente dall'associazione alla durata di tre anni ed un costo complessivo di 110.000 euro che verrà appunto sostenuto interamente dall'associazione. Grazie